L'oroscopo di Astra Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo di Astra per venerdì 18 settembre. Ariete, prendere dei rischi non serve perché puoi ottenere gli stessi risultati agendo con maggiore circospezione. Può starci di sbagliare qualcosa quando, come oggi, Mercurio è sul sentiero di guerra. Il vento in amore è amico. Toro, il semaforo è rosso per la maggior parte delle tue iniziative, perché con Marte, Venere e la Luna in rotta di collisione con il tuo segno, non è conveniente tentare l'assalto a obiettivi ambiziosi. Giove, offre protezione ai tuoi conti. Gemelli, le occupazioni quotidiane non ti fanno venire l'orticaria, puoi sbrigarle anzi più in fretta del solito per dedicarti poi a ciò che più ti piace. Brilli per dinamismo e lucidità. Anche in amore oggi tutto procede per il verso giusto. Cancro, il senso pratico abbinato all'istinto, è ciò che può offrirti la giornata. Di buono c'è che la reazione agli imprevisti è fulminea, oltre che azzeccata. Al centro dei tuoi pensieri c'è l'amore. Il tuo lato romantico oggi è in onda. Leone, non basta farti perdere la pazienza per metterti in ginocchio, perché non ci metti molto a recuperare il controllo e ad agire con criterio. A volte pecchi di impulsività, specialmente in amore. Cerca di correggerti. Vergine, più favori che dispetti da parte degli astri. Il tuo ottimismo non è fuori luogo. Con Giove e il sole nel segno puoi permetterti di usare di più senza rischiare per questo l'osso del collo. La serata in coppia è intrigante. Bilancia, la comunicazione è il tuo forte, specialmente abbinata alla presenza di spirito e all'eleganza dei modi. Mercurio nel segno può aiutarti a trovare la soluzione giusta in tempi record. Il vento negli affari di cuore è amico. Scorpione, la buona notizia è che la presenza di spirito è il top grazie alla luna nel segno. Se hai qualcosa da sistemare in famiglia o da chiarire col partner, vale la pena tentare. In amore, oggi, meglio lasciare spazio al tuo lato romantico. Sagittario, il rientro di Saturno nel segno un po' smorza il tuo entusiasmo, ma a vantaggio di una volontà più solida e costante. Se c'è qualcosa che può frenarti di questi tempi è l'eccesso di fiducia ed ottimismo. Amore ed Eros, ok. Capricorno, le preoccupazioni forse sono eccessive. Con Giove alleato non corri il rischio di restare a mani vuote. Magari non puoi ottenere tutto e subito, ma con il tempo il successo non può sfuggirti. I venti di passione sono in stand-by. Acquario, il senso pratico non guasta, abbinato all'attuale livello di lucidità, anzi, può aiutarti a fare la differenza. Se c'è qualcosa da correggere nel tuo atteggiamento è l'impazienza e la spinta a rischiare più del dovuto. Pesci, la prendi con filosofia o forse te ne fai una ragione. La luna del giorno può offrirti quel pizzico di ispirazione in più che non guasta, ma può sostenere anche il tuo lato romantico. La serata in coppia è intrigante. E anche per questo appuntamento con l'oroscopo di Astra è tutto. Grazie per l'attenzione e a domani. Grazie per l'attenzione e a domani.